Ciao, sono Giuliano Ricciardi. Il mio lavoro per Totondo Bosch Bessin è stato scelto come vennero del Civil Design Award nella categoria del bafferone, del furniture e del sanitario del design. Sono molto gratificato ai miei amici per il loro supporto continuo e grazie a tutti i clienti e i follower che credono nel mio lavoro. Grazie a Edesene Award per questa meravigliosa opportunità. Ciao, spero che ci vediamo!